Ciao, stai per ascoltare l'episodio numero 146 di Salvatore Racconta, un podcast settimanale in italiano semplice ma non banale, dedicato a chi studia o parla italiano come seconda lingua ed è in cerca di contenuti interessanti per migliorare il lessico, la grammatica e la capacità di ascolto, ma soprattutto è in cerca di storie interessanti sull'Italia e non le solite banalità da manuale di lingua. Se il podcast ti piace, lascia una recensione o un voto sulla piattaforma che usi per ascoltarlo. Se ti piace davvero tanto, sostienilo su Patreon. In cambio riceverai l'accesso a due podcast extra ogni settimana per parlare di attualità. Trovi tutte le informazioni qui sotto in descrizione. Ora però spazio alla nostra storia. Ciao, stai ascoltando Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice ma non banale. Se studi italiano e ne hai abbastanza di sentire parlare sempre di pizza, caffè e di quanto sia bella Venezia, questo è il podcast che fa per te. Ogni sabato qui troverai contenuti originali sull'Italia per potenziare il tuo italiano e conoscere meglio il paese che ami. Se un episodio a settimana non è abbastanza per te, puoi accedere alla serie del mercoledì riservata agli abbonati e dedicata a temi di attualità. La trovi all'indirizzo www.patreon.com slash Salvatore Racconta. Ma per il momento, buon ascolto! Nella serie storia di questo podcast abbiamo raccontato già molti eventi importanti della storia italiana. Eventi molto diversi tra loro, alcuni gioiosi, altri drammatici, altri ancora emotivamente neutri, ma cruciali per la società. I protagonisti e le protagoniste di queste storie sono persone molto diverse tra loro. Politici, musicisti, sportivi, gente del mondo dello spettacolo, criminali, persone comuni. Tutti diversi per generazione, ceto sociale, preferenze, ruolo, ma dietro o dentro tutti questi eventi c'era un uomo. Un uomo dall'aspetto quasi insignificante, magro, con la gobba, i capelli pettinati all'indietro in modo semplice, gli occhiali spessi e la voce un po' stridula. Quest'uomo ha passato molto tempo nell'ombra, ma con tanto potere tra le sue mani. Poi è uscito allo scoperto e ha continuato ad amministrare tutto questo potere, con carisma, intelligenza e anche un po' di cinismo. La sua morte nel 2013 è stata un evento storico. Amico di vescovi e papi, di presidenti americani e ambasciatori, di primi ministri britannici e servizi segreti francesi, alleato degli arabi e riconosciuto dagli israeliani. Entrato in parlamento nel 1946, uscitone solo per dire addio alla vita terrena. Sette volte presidente del consiglio, 34 volte ministro, è stato a un passo dal diventare presidente della Repubblica e a un passo dall'andare in prigione come colpevole di reati di tipo mafioso. L'uomo più potente d'Italia per almeno 50 anni. Amato da molti, odiato da molti altri. Geniale, pericoloso, amichevole, odioso, intransigente, diplomatico, santo, criminale. Aveva il nome del più famoso dittatore dell'antica Roma. Per questo un giornalista una volta l'ha chiamato come lui, il divo Giulio, come Giulio Cesare, ma destinato a vivere e comandare molto più a lungo. L'altro Giulio, Giulio Andreotti. Quando ho detto che Andreotti c'è sempre stato durante i grandi eventi della storia italiana, non stavo esagerando. C'era da un punto di vista biologico, ma non solo. Nel 1946, per le prime elezioni libere dopo il fascismo, Giulio Andreotti c'era, candidato ed eletto. Nel 1960, quando Roma ha ospitato i giochi olimpici, Giulio Andreotti c'era, presidente del comitato organizzatore. Nel 1974, l'anno del referendum sul divorzio, Giulio Andreotti c'era, ministro del bilancio. Nel 1978, l'anno del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro, Giulio Andreotti c'era, presidente del consiglio. E potrei continuare, ma forse è meglio riavvolgere il nastro e cominciare dall'inizio. Giulio Andreotti nasce il 14 gennaio del 1919 a Roma. Allora i bambini nascevano in casa, e così anche lui, nella casa della sua famiglia, nella centralissima via dei prefetti, a due passi dal Parlamento italiano, un segno precoce del suo destino. È studente di legge negli anni del fascismo, un periodo complicato, naturalmente, ma che gli garantisce di creare contatti stabili con alcune persone che diventeranno molto influenti. Il partito fascista, infatti, ha chiuso quasi tutte le associazioni non fasciste, ad eccezione di alcune legate alla Chiesa, tra queste l'Associazione degli studenti cattolici. È lì che il giovane Andreotti conosce Alcide De Gasperi, futuro fondatore della democrazia cristiana e primo presidente del consiglio dell'Italia repubblicana. De Gasperi stima molto Andreotti, e Andreotti ha una grande ammirazione per De Gasperi, che diventa per lui quasi una figura paterna. È grazie a questo rapporto di stima e amicizia che di fronte al giovane Giulio si aprono presto le porte delle stanze del potere. Si candida alle elezioni del 1946 per l'Assemblea Costituente e viene eletto. Contribuisce così a scrivere la Costituzione, quella che osserviamo ancora oggi. E poi, nel governo De Gasperi, diventa sottosegretario, un ruolo poco visibile, ma molto importante. Andreotti da subito ha le idee chiare sulla sua posizione politica. È un conservatore moderato, certamente antifascista, ma molto scettico verso le politiche di sinistra e ostile al marxismo. In quegli anni di forte dualismo tra il suo partito, la democrazia cristiana, e il partito comunista italiano, lui conquista la fama di uno che, con i comunisti, non ci vuole avere troppo a che fare. Ama, diciamo, altre compagnie e in contatti molto stretti con gli ambienti alti e altissimi della Chiesa. Per esempio, con il vescovo Montini, diventato poi cardinale Montini e, infine, eletto papa con il nome di Paolo VI. Eh sì, Andreotti era uno che sapeva su quali cavalli puntare. Inoltre, quando comincia a fare carriera come ministro della difesa, tesse una rete di contatti molto fitta, con persone potenti degli altri paesi occidentali. L'Italia ha scelto di stare nella NATO, ma ha quel problemino del partito comunista più forte d'Europa. Per i governi occidentali, la conoscenza personale con Andreotti è una garanzia che, con i comunisti, non ci sono rischi. Dopo la morte di De Gasperi, sembra che la stella di Andreotti possa tramontare. Era entrato in politica come De Gasperiano, portava avanti le sue idee, soprattutto quella della distanza dalla sinistra. E i tempi sembrano cambiati. Dentro la democrazia cristiana, a metà degli anni Sessanta, sono sempre più forti le idee di quelli che vogliono collaborare con la sinistra, per fare le riforme, dicono loro. Andreotti non è d'accordo, ma non fa polemica. Si tira indietro e fa quello che sa fare meglio. Lavora nell'ombra. Diventa il capo informale di tutti quelli che non si fidano dei comunisti e dei socialisti, e anzi vorrebbero una democrazia cristiana spostata un po' più a destra. Nel frattempo, continua a costruire la sua reputazione di uomo affidabile e serio agli occhi del Vaticano e degli Stati Uniti, due autentici poteri ombra nell'Italia del ventesimo secolo. Verso la metà degli anni Settanta, forse lo ricorderete, l'uomo più importante della democrazia cristiana è Aldo Moro, uno che da tempo, con fatica e pazienza, sta costruendo le basi per un compromesso con il Partito Comunista. Andreotti, ancora una volta, si dimostra una vecchia volpe. Nonostante il suo anticomunismo sia ancora molto forte, Aldo Moro propone proprio a lui di diventare presidente del Consiglio, del primo storico governo con l'appoggio dei comunisti. Per Moro è una mossa necessaria, quello che sta facendo è rischioso, sa che gli alleati non lo vedono di buon occhio, ma se a guidare quel governo c'è Andreotti le cose cambiano. Gli americani sanno che di lui si possono fidare, anche se di mezzo ci sono i comunisti. Poi succede quello che conosciamo, sono gli anni del feroce terrorismo politico e le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro il 16 marzo del 1978, esattamente il giorno del giuramento del quarto governo Andreotti, che avrebbe dovuto ricevere la storica fiducia del Partito Comunista italiano. E la riceve per la verità, in quei giorni complicati c'è bisogno di un governo forte, e lo guida proprio Andreotti, che a quel punto fa una scelta molto chiara, molto sofferta e molto discussa. Conosce Aldo Moro da quando erano ragazzi, è un compagno di partito, un amico, quasi un fratello per lui. Eppure Andreotti è fermo, non si può negoziare con le Brigate Rosse. Sarebbe il fallimento dello Stato. Se questo vuol dire la morte di Moro, pazienza e un prezzo da pagare. E così Aldo Moro viene ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio dello stesso anno. Andreotti rimane al suo posto, presidente del Consiglio, fino al 5 agosto del 1979. Inamovibile. Negli anni 80 ormai lo conoscono pure i sassi. A livello internazionale Andreotti è l'uomo politico italiano più rispettato. Nel 1981, quando scoppia lo scandalo delle liste della P2, la loggia massonica segreta che comprendeva molti uomini di potere, il nome di Andreotti non c'è. Anche se qualcuno sospetta che ci sia pure lui dietro a quell'enorme, misterioso progetto di potere per controllare l'Italia. Del resto, chi lo conosce lo sa bene. Governare nell'ombra è proprio una cosa andreottiana. Dallo scandalo P2 esce piuttosto bene, ma sta comunque per arrivare il suo canto del cigno politico. Davvero conservatore, sa che le cose cambiano molto meno velocemente di quanto sembri. Spesso ha ragione, ma a volte è presuntuoso. A metà del decennio deve fare i conti con una perdita evidente di centralità del suo partito, la democrazia cristiana, che fino a quel momento era stata l'ago della bilancia della politica italiana. In quegli anni, democristiano significa grigio, piatto, lento, antiquato e sempre più gente, vuole colore, velocità, dinamismo, riforme, modernità. Andreotti è convinto che sia solo una moda passeggera. Nel suo diario scrive che per gli italiani quella voglia di cambiamento è come una minigonna. Bella, eccitante, ma solo per un po'. Dopo ti torna la voglia di vestiti più tradizionali, tranquilli e rassicuranti, come la DC. In parte ha ragione. Ne parleremo più avanti in altri episodi, ma è vero che la grande onda di modernità degli anni Ottanta finirà spazzata via da un uragano di scandali che distruggerà quasi tutta la politica italiana. Quasi, per l'appunto, perché mentre tutto crolla c'è un uomo che resta in piedi, con la sua gobba, gli occhi stretti e il cervello sempre in movimento. E ancora lui, e ancora Giulio Andreotti. Avete presente il mito di Icaro? Il personaggio dell'epica greca che vuole volare troppo vicino al sole, ma il calore scioglie la cera delle sue ali e lui cade al suolo. È una metafora molto comoda da usare in tante situazioni. E vale anche per un uomo solitamente intelligentissimo e prudentissimo come Giulio Andreotti. Nel 1992 si vota per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Per Andreotti sarebbe l'ultimo tassello del puzzle, la ciliegina sulla torta di una strepitosa carriera politica. E vincere quelle elezioni, per lui, sembra quasi uno scherzo. Solo che la storia italiana è come il sole per Icaro. E i suoi sogni di gloria si sciolgono il 23 maggio di quell'anno, il giorno in cui un attentato mafioso uccide il giudice siciliano Giovanni Falcone. Nella confusione di quel momento Andreotti perde le elezioni. Al suo posto diventa presidente un altro vecchio democristiano, Oscar Luigi Scalfaro. Ma perché succede? Perché sulla carriera di Andreotti iniziano dei sospetti. Qualcosa comincia a sembrare strano. A marzo di quello stesso anno la mafia aveva ucciso un politico democristiano siciliano, Salvo Lima. Probabilmente lui stesso legato a Cosa Nostra e sicuramente legatissimo al suo padre politico, ovvero Giulio Andreotti. A un certo punto i sospetti di legami tra mafia e politica si allargano fino a toccare lo stesso Andreotti, che viene indagato dalla procura di Palermo, assolto poi per molte delle accuse e prescritto per quelle più vecchie. E' un processo clamoroso. Dopotutto si tratta di uno degli uomini più potenti dello Stato, accusato di collusione con la mafia. Nello stesso periodo giornalisti e attivisti iniziano inchieste su di lui. Sospettano ora molto concretamente che abbia avuto un ruolo non secondario in tanti dei misteri italiani, a partire dalla bomba di Piazza Fontana, passando per l'Italicus, per la strage di Ustica, per quella della stazione di Bologna. Lui su questo ironizza con il suo tipico sarcasmo. Dice ai giornali che l'unica cosa per cui non lo accusano sono le guerre puniche, quelle combattute tra Roma e Cartagine. Fatto sta che su tutti i misteri del XX secolo il sospetto che lo Stato italiano sapesse qualcosa e che avesse lasciato fare è un sospetto concreto e lo Stato italiano per tutti quegli anni aveva la faccia e la voce di Giulio Andreotti. Questo è innegabile. Un altro processo molto duro lo accusa di essere il mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, la spina nel fianco di Andreotti, quello che aveva inventato il soprannome Divo Giulio e che faceva inchieste su di lui e sulla democrazia cristiana. Anche da questa gravissima accusa Andreotti alla fine è stato assolto. Di certo però l'accusa di essere un mafioso e un assassino ha messo fine alle sue ambizioni politiche e lascia serie ombre sulla sua figura. È morto nel 2013 molto anziano da senatore a vita della Repubblica Italiana. Non sappiamo quali e quanti misteri si sia portato nella tomba. Di sicuro dietro quegli occhiali spessi e gli occhi piccoli ma intelligenti c'era la mente di un uomo molto potente, molto ambizioso, sicuramente abbastanza cinico e che forse ha messo la sua fame di potere davanti a tutto. Forse appunto perché la verità su Giulio Andreotti non la conosceremo mai. Hai ascoltato Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice ma non banale. Se l'episodio ti è piaciuto e ci sono parole ed espressioni nuove che vuoi approfondire puoi ricevere gratuitamente la trascrizione dell'episodio con un glossario delle parole più difficili iscrivendoti alla newsletter del podcast. Per altri materiali di lessico e grammatica seguimi su Instagram e visita il sito salvatoreracconta.com. Trovi tutte le informazioni necessarie nella descrizione di questo episodio. Alla prossima!